oggi partiamo per l'avventura con questo Land Rover Defender 110 un Defender molto particolare e adesso vi mostrerò perché ciò che rende speciale questo Defender è l'allestimento infatti questo è un Defender pick up crew cab quindi quattro porte con passo corto 110 letteralmente introvabile l'allestimento esterno è completato dallo snorkel dalle pedane laterali da questi inserti in alluminio dal cofano opaco antiriflesso dalle griglie per proteggere i fari e da una piastra inferiore anticolpi l'abitacolo di questa Defender è spartano per vocazione ma non mancano dei comfort moderni che la rendono adatta tutti i giorni come i sedili rivestiti in pelle la predisposizione per l'autoradio con le casse inoltre un optional molto ricercato ossia il climatizzatore per scoprire il prezzo e vedere il book fotografico di questo Defender 110 pick up crew cab disponibile in pronta consegna alla Lorenzi Auto Hub cliccate sul link qui sotto in descrizione oppure andate sul nostro sito www.lorenzihub.it www.lorenzihub.it